Roma, Stadio Olimpico, sono vero ci parlo, con me c'è Luca Marcheggiani. Grazie per Luigi, non vedo l'ora che lo spettacolo inizi quest'oggi. Si fa sul serio, si parte, può andare, Barrientos. Palla profonda a cercare lo spazio, non c'è fuorigioco, non ci va, il missile. Non c'è nessuna possibilità di prendere il pallone, calcio di punizione. Ecco che ci prova, si saldano con la traversa. Paglia rinalzata, tutto fermo, dovranno rimandare l'eventuale gol del vantaggio. C'è spazio per andare, sicuro, qui, il portiere contro me. Hernanes. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Cerca il tiro. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Il portiere era totalmente fuori posizione. E' fortunato che il tiro non abbia giuntato lo spazio della porta. Dal tiro, ci libera di imparare. Ecco il tiro. Palla larga sulla destra. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Hernanes. Gran tocco in verticale. Cerca il pallonetto. C'è la magia del calcio in questo gol. Per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. 1-0. Uno splendido pallonetto. Per come era messo con il corpo, sembrava volesse calciare forte in porta. Invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Arriva il fisco dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Sono riusciti a passare in vantaggio nonostante un primo tempo povero di occasione. Hanno ottenuto davvero il massimo del risultato col minimo sforzo. Inizia il secondo tempo, 45 minuti ancora per tornare in partita. Hernanes. E lì può provare? Sicuro. qui in partita. Alvino. Sta arrivando in porta. Non è finita ancora. L'azione è sfumata. Palla tra le braccia del portiere. E quella posizione doveva assolutamente andare a segno. Ma lui non c'è riuscito. Prova da fuori. Hanno rischiato a grosso dopo aver perso il pallone. Tocca verso il centro. Prova al volo. Un'altra chance. Guarda il casuolo in pallida per il pezzo. Credo che abbia avuto troppo freddo. Avrebbe dovuto agire con più calma in queste circostanze. Certo, è facile dirlo da qui. Alvino. Crospasso. Insomma, qui dovevano chiudere la partita non ce l'hanno fatto. Perché il gol... Hernanes. Grande occasione. Ha messo troppo. Ha perso l'attimo. Non ha agito abbastanza in fretta. Ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Brocchi. Barrientos. E dunque si chiude questa sfida dopo 90 minuti. Una bella vittoria davvero fondamentale per il futuro. D'accordo.